Grazie a tutti. La sezione di questo cd dedicata all'Eucaristia prevede due brani di struttura stilistico-formale opposta. Il mottetto polifonico o Sacrum Convivium, nell'originale testo latino, prevede l'esecuzione a cappella del coro a quattro voci. Al procedere omoritmico dall'andamento meditativo si accompagna un'armonia trasparente, resa minimamente dissonante in corrispondenza dell'inciso passionis eius, per poi concludere con una stretta imitazione sull'alleluia finale. Di tutt'altro genere si presenta invece il secondo brano eucaristico, questa volta contesto in italiano, ecco il corpo. Questo richiede un'esecuzione assembleare sia per il ritornello che per le strofe e al sostegno dell'organo si aggiungono, solo nella parte responsoriale, brevi inserzioni polifoniche del coro favorito a quattro voci. e al costru. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.